Fuori le mura medioevali di Castel Belasi a Campodeno in bassa Val di Non, dentro una riflessione su un tema quanto mai attuale, quello dell'acqua. Si intitola Come pioggia il progetto espositivo curato da Stefano Cagolo, direttore artistico del Castello, realizzato in collaborazione con il Museo di Trento e nato dalla piattaforma del Museo sulle questioni ambientali We Are the Fluid, Noi Siamo il Diluvio. In mostra una quindicina di opere di artisti internazionali e italiani, tra video, sculture e installazioni, in dialogo anche con gli antichi affreschi dell'ultimo piano del maniero medioevale. Il fulcro è appunto l'acqua, elemento essenziale della nostra vita, sul quale impattano in particolar modo i cambiamenti climatici. Nella sezione Generazione Antropocene, invece riferita all'era che indica l'impatto dell'essere umano sul pianeta, sono 15 giovani artisti italiani a riflettere con le loro opere sul ruolo che i luoghi di cultura devono avere nell'aiutare a immaginare i possibili domani. La mostra sarà visitabile fino al 29 ottobre.